La beccata del Gallo Commento sportivo alla giornata del campionato di calcio italiano A cura della redazione sportiva di Vanilla Radio Con Antonello Gallo Sedicesima giornata di campionato Ancora una volta bisogna soffermarci sulla difesa Questo reparto così fondamentale nella storia del calcio E alla fine anche in quello di oggi È indiscutibile e comprovato che nel calcio possedere una difesa affidabile Porta a successi definitivi Mentre riuscire solo nell'impresa di segnare un gol di più agli avversari Porta al massimo a vincere la partita La storia insegna che chi subisce di meno Vince comunque alla distanza Meditate Anticipo del sabato Non merita stavolta i fischi del pubblico a fine gara il Catania Che si oppone con determinazione, volontà e coraggio al Verona Ma non va oltre lo 0-0 Con sorpresa rivediamo la squadra di De Canio fare sfoggio di queste caratteristiche positive Anche se la concretizzazione del gioco prodotto è scarna Sotto porta c'è bisogno di cinici cecchini Non di fantasmi balbettanti Con un berghessio in campo dal primo minuto e al 100% della forma Probabilmente i rosso-azzuri sarebbero riusciti a vincere una partita Che hanno comunque condotto dall'inizio alla fine La sfuriata di Pulvirenti in settimana Molto simile ad una colata lavica ribollente dell'Etna Ha evidentemente raggiunto almeno qualche risultato L'Elas invece si produce in una delle sue più brutte prestazioni In colore, senza mordente e quasi incapace anche di controoffensive degne di questo nome Il fatto che Raffael sia stato il migliore in campo fra i suoi E decisivo in almeno due occasioni La dice lunga sull'atteggiamento mentale dei veronesi in territorio etneo Lazio-Livorno 2-0 Discorso chiuso, anzi close Torna infatti il tedesco e la Lazio ripiglia colore E anche quella tranquillità psicologica e quella efficienza Che latitava da troppo tempo nella truppa bianco celeste Per la verità ancora qualcuno ci appare al di sotto dei propri limiti Per come spreca di brutto le cose buone che si apparecchia con tanta cura Ma tant'è prendere o lasciare Di certo, con il ritorno del Teutonico La squadra di Petkovic comunque si scioglie ed è più fluida Forte del fatto che il finalizzatore della sua manovra è in campo a pieno servizio Non sappiamo poi perché Lottito in tribuna continua a restare serio A non apparire soddisfatto di fronte a questo miglioramento E ai gol del suo centravanti Ma forse aveva mal di denti Piccola la reazione del Livorno rispetto a quanto aveva mostrato in altre occasioni simili Quando pure stava sotto Se sia stata solo questione momentanea di calo di forma ce lo dirà il prossimo turno Ma perché Emegara quest'anno è l'ombra del giocatore interessante dello scorso anno E appare così triste ed evanescente Lo ha lasciato la fidanzata O si è accorto di non digerire bene le triglie alla Livornese e vuole così cambiare aria Non è facile di questi tempi battere l'Udinese Ma il Torino ci riesce addirittura a casa sua con un secco 2 a 0 Al di là del fatto che i gol potevano essere di più Da una parte e dall'altra È la squadra di Ventura che ancora vanta fiera Un'ottima interpretazione del modello classico di gioco all'italiana Che quando è fatto con saggia oculatezza Può dare buoni frutti e in definitiva è anche bello a vedersi Quindi squadra risoluta, tangibile e positiva in difesa E con un ottimo uso dei contropiedi Cerci si diverte a fare il totti con gli assist che sforna per i compagni Che non lo deludono e costruiscono bellissime segnature Toro di Ventura come il Napoli di Mazzarri? La strada ci pare proprio quella Del resto in anni passati l'Atalanta di Strumberi O il Genoa di Scuravi Regalarono ai propri tifosi grosse gioie in campionato Ed in Europa proprio con i prototipi tattici rispettabilissimi di questo tipo E dal momento i Granata meritano l'Europa L'Udinese non gioca male Le prova tutte Ma non è serata perché gli errori sono tanti Le occasioni i bianconeri le hanno ma senza sfruttarle Il Toro controlla senza disunirsi e resta inviolato Che era in crescita ce ne eravamo accorti dal match contro la Roma La prova per la Fiorentina arriva anche da questa bella vittoria per 3-0 contro il Bologna Che è netta e senza storie Con la manovra scorrivole a vincente diretta da Borja Valero Però a garanzia di questo progresso Perlomeno di una certa stabilità In tal senso che è mancata i Viola fino a questo momento Aspettiamo ulteriori conferme In quanto gli avversari emiliani dell'occasione sono stati davvero poca cosa Confusionari, senza grinta e con la cresta abbassata alle prime difficoltà Dove è finita quella discreta compattezza e robustezza difensiva Che peraltro aveva fatto sudare anche la Juve Scomparsa nel nulla Non possono permettersi a Bologna questi cali di tensione Doppia beccata per loro, meritata Al Tardini di Parma Nulla da festeggiare per i padroni di casa contro il Cagliari Dato lo scialbo 0-0 Ma piuttosto da celebrare il centenario dei padroni di casa Questo motivo è l'unico valido per parlare di questo match Che ha dato pochissime emozioni E per questo giustamente terminato in parità senza reti I Ducali giocano quasi come se fossero i calciatori in campo A festeggiare il secolo, visti i ritmi Ed i Sardi non fanno nulla di particolare Per stimolare e condurre la gara su altri binari Il tecnico Lopez sa imbrigliare gli emiliani al centrocampo E sfiora anche il colpaccio con un palo di Naindola E' decisamente un'altra Samp quella del serbo Mihailovic I progressi blucerchiati, al di là dei risultati Si erano ben notati nelle ultime settimane I Doriani riescono ad imporsi in casa del Chievo 0-1 Giocando con assiduo impegno e costante aggressività Tanto che per alcuni tratti della gara, specie nel primo tempo I Clivenzi, più che in postar gioco, sono rotolati in campo sotto i colpi dei genovesi Chievo di Corini che però non delude affatto neanche stavolta Anche se al suo primo stop Manca sia di fortuna e sia di quella cattiveria in fase conclusiva Ed è stato sorpreso dalla coriacea Sampdoria Che una volta in vantaggio è diventata difficile da scardinare Se i padroni di casa comunque avessero raggiunto il pari Non avrebbero rubato nulla Bella la partita del Marassi Dove Genoa e Atalanta chiudono sull'1-1 Ma lo spettacolo e il gioco non mancano Visto che le due formazioni sono fra quelle attualmente più meritevoli di rispetto per agonismo e combattività Gasperini sta rivitalizzando Uomini e Gioco del Grifone Che si mostra voglioso di vincere E che offre sprazi di gioco interessante, veloce, anche se a volte rischioso La tenuta della squadra cala però nella ripresa Quando la flemma Atalantina invece non si scompone Pur se in svantaggio gli Orobici continuano a premere con una certa costanza Pure quando il Genoa comincia ad entrare un po' in amprensione Questo lato caratteriale ha forse il suo peso per il Rosso-Blu Salvati più di una volta dal talento Perin cedono poi in pieno recupero Di contro la dea bergamasca ci ha creduto sempre e viene premiata In extremis Colantuono serve al collega un caffè amarissimo Proprio mentre questi lo stava già pregustando dolcissimo Non c'è partita allo Juventus Stadium Dove i campioni d'Italia rifilano quattro gol a Sassuolo E mantengono inviolata la porta di Buffon Sfoga la rabbia dell'eliminazione della Champions la squadra di Conte Ma onor del vero non è per niente impensierita seriamente dalla compagine emiliana Che non appare molto accorta in difesa ed è effimera in attacco con poca vivacità Nella Juve bella la prova di Asamoah schierato nuovamente da interno Che proverà ancora una volta a convincere Conte che è quello il suo ruolo naturale Con la tripletta Tevez si prende una bella rivincita su chi lo aveva criticato Per aver segnato poco in Coppa Critiche alquanto ingrate per un calciatore sempre generoso come lui E allora l'anno scorso cosa avrebbe meritato Vucinic per le frequenti incertezze dimostrate sotto porta? Una impiccaggiore immediata? Partita del posticipo domenicale caratterizzata da una pioggia di reti Molte delle quali sembrano essere anche dei regali natalizi dato il periodo Ma la difesa, reparto tanto caro al calcio nostrano dove è finita mai? E se avevamo detto che l'Inter di Mazzari ne prendeva troppe e troppo facilmente Se ne è avuta piena conferma stavolta E cosa dire della cocciutaggine beniteziana? Onestamente è vero che tranne rarissimi casi neppure il Napoli ha campioni in quel reparto Ma a questo punto non riusciamo davvero a comprendere perché non dare chance di recupero morale e professionale All'ex capitano Paolo Cannavaro Primo tempo scoppiettante dei nerazzurri che immaginano gioco ma piuttosto inconcludente e impreciso Il Napoli invece gira a mille in attacco e nelle ripartenze è bruciante Nel secondo tempo il Napoli produce più ordine tattico e in questo caso gestisce meglio la vittoria Esprimendosi nelle ripartenze veloci dominando in attacco L'Inter dopo l'espulsione sicuramente leggera di Alvarez si disunisce via via del tutto Fornendo una prestazione caotica al di là dell'intensità della gara che non è mai mancata Anche sul punteggio definitivo di 4 a 2 Ma infine detto che è stato un peccato il rigore fallito da Pandev Forse sarebbe stato preferibile che il Macedone lo preparasse spalle alla porta e poi girarsi a calciare È la sua giocata classica in cui segna di solito Ed in fondo il regolamento non vieta un tale rigore, no? La beccata del Gallo In studio Antonello Gallo